Musica Si può coniugare la sostenibilità ambientale con quella sociale? Sì, come dimostra il progetto Un'agroforesta per Mediglia, che è stato presentato presso la Fondazione Rovati a Milano, da Caritas Ambrosiana e Fondazione Silva, e che completa il polo educativo di San Martino in Mediglia appunto. A sud-est di Milano verrà infatti realizzato, su un terreno di circa 1,5 etteri, l'agroforesta, che ha un duplice scopo, dare vita a un bosco con alberi e piante concordati con il Parco Sud di Milano e insieme consentire la conduzione di attività agricole. L'intervento prevede anche la creazione di un piccolo vivaio per la propagazione di piante forestali, previste circa 5.000 piante autoctone all'anno. Tuttavia il progetto agroforestale completa un più ampio progetto socioeducativo, che la Comunità Pastorale di Mediglia, insieme a Caritas Ambrosiana, Fondazione degli Oratori Milanesi e CSI Milano, grazie a un finanziamento della Fondazione Falc, sta per realizzare nella frazione agricola di San Martino Olearo. Il progetto consiste e viene formulato in tre azioni, tre azioni che sono davvero significative e anche innovative. La prima azione è un centro diurno, i ragazzi uscendo da scuola arrivano al polo educativo San Martino, la condivisione di un pranzo insieme e poi un doposcuola che non è il doposcuola tradizionale, è un doposcuola non convenzionale, un doposcuola attraverso dei laboratori, i laboratori agricoli, perché dove investiamo la parrocchia di San Martino è una parrocchia prettamente agricola, laboratori artistici, laboratori sportivi. La seconda azione invece è una comunità residenziale, andremo a ospitare dieci ragazzi dai 14 ai 18 anni, quindi l'accompagnamento e addirittura abbiamo una comunità per i neomaggiorenni, cioè una volta terminato il cammino nella comunità residenziale accompagniamo ancora per 3-4 anni questi maggiorenni accompagnandoli nel mondo del lavoro. La terza azione, che è quella che ci fa essere davvero molto innovativi, è la parte sportiva e agricola. Fondazione Silva è partner del progetto, ci occuperemo proprio dello sviluppo del sistema agroforestale e della creazione di questo piccolo vivaio. Fondazione Silva si occupa di riforestazione, in particolare nel Salento, dove la xylella ha devastato il paesaggio, uccidendo gli ulivi e quindi noi lì stiamo creando dei boschi di macchia mediterranea. L'incontro con la Caritas è un incontro per noi naturale, in quanto è nel nostro modo di operare c'è quello di attivare una rete, una rete in particolare con il terzo settore, che garantisce per noi anche la parte proprio della cura delle piante e dell'attivazione di relazioni con la comunità, che vuol dire poi vivere, per vivere questi boschi, in particolare nel polo di Mediglia saranno i giovani a essere i protagonisti. Un progetto fondamentale, come dovrebbero essere messi in campo moltissimi altri dello stesso tipo, secondo quanto ha evidenziato Stefano Mancuso, docente e responsabile del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale. Il riscaldamento globale sta cambiando decisamente tutte le condizioni ambientali, le temperature sono sempre più alte, le ondate di calore sono sempre più lunghe e in queste condizioni, in questa situazione, chi soffre sono sempre le persone più deboli, più fragili, che non hanno la possibilità di rinfrescare ad esempio i loro ambienti. Quindi questo tipo di iniziative in cui si pensa di riforestare con un numero significativo di alberi delle zone che finora invece non avevano ospitato degli alberi, sono straordinariamente benvenute. Grazie.